stanno mettendo la fibra dentro gli appartamenti la famosa fiber to come questo è la canalina di fibra questa è la scatola di lub lub ottico che poi praticamente tardi va dentro gli appartamenti e qui dietro stanno facendo proprio i lavori di posizionamento poi il caso mai vi faccio vedere